E' bello amare il calcio. Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team. Il pallone Amsic. Zampano dentro con il cross. La conclusione, il gol ancora dell'Udinese. E' in vantaggio con Ingelson. Al San Paolo ancora la formazione di Oddo avanti. Ha segnato Ingelson. Napoli 1, Udinese 2. E per lui arriva il primo gol in Italia. All'ottava presenza in questo campionato. Dopo una lunga azione offensiva, Noitink a provare la conclusione. Amsic non la prende. Zampano all'indietro. Arriva Ingelson. Di prima anticipa Zielinski. E la mette dove Pepe Reina non riesce ad arrivare.